Ieri un abitante della Costa d'Avorio, residente a Sondrio, ha arrestato per detenzione spaccio di sostanza stupefacente. La perquisizione ha portato al rinvenimento di importanti quantitativi di sostanza, nonché di circa 2000 euro, nascosti in varie parti dell'appartamento. Lo spaccio di sostanze stupefacenti è un fenomeno che desta particolare allarme sociale e che vede l'impegno costante delle forze dell'ordine. E proprio nell'ambito dell'attività di routine, volta al controllo del territorio e al contrasto della microcriminalità, i carabinieri del NORM e della Compagnia di Sondrio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 39enne della Costa d'Avorio, residente in città. L'uomo è stato notato dai militari dell'arma a cedere marijuana ad un 19enne valtellinese nella periferia del capoluogo. Da lì è scattato il controllo sull'Ivoriano, che addosso non aveva nulla. Così i militari hanno raggiunto la sua abitazione sequestrando 20 grammi di cocaina, 32 di oppiacei, 5 di marijuana, ma anche sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga. Oltre a 1900 euro in contanti, probabile provento dell'attività di smercio. Tutto è stato posto sotto sequestro e il 39enne è finito in carcere. L'attenzione ormai è massima per questa diffusione di sostanze stupefacenti militari, anche in abiti borghesi, con macchine civette per lustra nel territorio, in maniera importante. In questi giorni inoltre i carabinieri della stazione di Sondrio hanno denunciato per violenza privata e minaccia grave in concorso, ma anche per ingresso e soggiorno illegale in Italia due clandestini, un nigeriano di 30 anni e un algerino di 28 anni, ospitati in un appartamento del centro storico del capoluogo. L'attività è partita dalla denuncia di un marocchino trentenne, sequestrato per 24 ore, che da Torino ha raggiunto Sondrio su consiglio di un amico proprietario dell'abitazione dove vivevano i due stranieri, ma fuori città per qualche giorno. Il nigeriano e l'algerino, infatti, appena arrivato il marocchino, lo hanno chiuso a chiave nell'appartamento, minacciandolo con un coltello per impedirgli di uscire. Il trentenne, approfittando di un momento di distrazione dei due, è riuscito ad impossessarsi delle chiavi di casa, abbandonando l'appartamento per andare in caserma e raccontare quanto subito. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno confermato la tesi dell'uomo, sequestrati sui comodini della camera da letto coltellacci da cucina e modiche quantità di hashish. I due, nei confronti dei quali è stata avviata la pratica del rimpatrio, sono stati denunciati. Infine, i carabinieri di Ardenno hanno arrestato in questi giorni un 41enne dell'Alta Valle che deve spiare cinque anni di reclusione per reati vari.